Tolkienettes ritorna protagonista Night and Day, il programma radiofonico condotto da Nick Simcock sulle frequenze di RBL ha di recente intervistato i Kikessona, ospitate all'interno del programma in cui la band Zuldana ha presentato il loro nuovo lavoro discografico, Massa Belle, e ha raccontato Zoldo, i pro e contro della provincia di Belluno, la vita dentro e fuori questa nostra grande provincia, le problematiche, le aspettative, le cose belle e le cose brutte. Noi li abbiamo registrati e questa è parte di quello che i Kikessona hanno regalato agli ascoltatori di Radio Belluno ricordandovi però che i Kikessona sono ancora in tour per l'ultima data, quella del 16 gennaio al Teatro delle Cannossiane di Feltre, la cui prevendita è presso lo Scoppio Spettacoli di Piazza Martire a Belluno al numero telefonico 0437 948874. Kikessona! Al contro canto della litania, del col dal sec della piefernia, e la casotta della dal punt out che due le tappe della vita mia, quasi proibida come eren tosate, adesso da ome la me fa pensare che sa sfumare le pepe da fumare, via la memoria che da mi sembra. Conto poetico numero uno, l'izzondo qui non lo sa nessuno, la vita è adesso e ti dirò il perché, aprire gli occhi su quel che c'è. Mi ne le ultime fene, le prime, provaci che ti conviene, ci li batto addio, le seconde noce, cabare cancanio, colazione precoce, insonnia non è solo che una parola, la situazione che con la te consola, insonnia miga, miga mai insonida, insonnia miga, miga mai insonnata, Con chi che sono, gli attacca la spina, le belle tose, le basso in fine, con chi che sono, gli tira le corde, le belle tose, gli attacca a morde, con chi che sono, gli suprima al con, le belle tose, le lute d'accordo, con chi che sono, gli attacca in tona, le belle tose, le la fasciirà. Punto patetico numero uno, l'izzondo qui non entra nessuno, senza passare anche se non lo sai, per la belpa umana del cinquantasei, sulle rive del lago di Pontesie. Non è più il Fazio, non è più il Corino, non è più Binda, non è più Larina, non è più il Brain, non è più il Stone, ma sull'annapa ancora secca a ton, non è più il Celi, non è più il Polone, non è più i posti a Lucchettione, non è più il Trano, non è più il Ceo, qual nino Nassos è sempre Queo. Con chi che sono, gli attacca la spina, le belle tose, gli attacca in tona, con chi che sono, gli attacca a morde, con chi che sono, gli attacca a morde, con chi che sono, gli attacca il suo primo accordo, le belle tose, gli attacca in tona, le belle e tose della faggira punto esoterico numero uno da zondo qui non esce nessuno senza passare sul riverside dove il pastino ce l'ambiamo noi e il prezzo è onesto più onesto che assai no le musiche va e lo calde prima si ha trasformato su me adesso il mondo interna un posto ovvero Cuba, Caraibi, Giappone, Mar Nero le tose, le bala, le tolal sta male e non ho il tempo con te adesso spuzza a casa su me adesso il mondo pari Bruxelles di fianco alla cava c'è tiga o l'enal o è nel che dir si voglia con chi che sono e taccano la spina le belle e tose le dute d'accordo con chi che sono e attacca in tona le belle e tose le la faggira bene allora approfittiamo di questa canzone per salutare tutti gli amici di Radio Belluno che proprio in questo preciso istante hanno avuto la fortuna di sintonizzarsi su queste frequenze auguriamo loro buon divertimento e soprattutto buone vibrazioni oppure come si dice a feltre oh che buone vibrazioni che ti ha signori, signori, chi che sono un applauso fantastico grande in diretta qui con Radio Belluno per voi in questa serata meraviglioso è un record di sicuro senza dubbio è un record questo dei tanti musicisti che abbiamo tutti attaccati e sistemati qui nel nostro studio veramente grande Charlie sulla voce Fabio sul basso Beatty sulla gran cassa la cosa non so cosa che sia la Cahum non so se questo è Zoldano Paolo sul tastiere e Gianni sulla chitarra e anche per registrare un futuro appuntamento a Night and Day abbiamo Yuri sulla telecamera grande Yuri, grazie allora dopo sette anni di silenzio Charlie dove siete stati? no, no non era proprio silenzio silenzio era un silenzio sommesso ovvero sia un silenzio creato in attesa di un qualcosa che sarebbe poi esploso al momento debito e finalmente dopo tre anni di prova per rompere questo silenzio il 15 dicembre di quest'anno giorno di Santa Costanza sì, non so è uscito è uscito insomma si è visto il risultato di tutto questo silenzio ok e quindi il tour il tour come si dice tour in Zoldano? tour? ma semplicemente si potrebbe dire giro il giro il giro il giro il giro vabbè quindi il giro inizia invece dove inizia? Val di Zoldo a Cinema Don't o Cinema Do? pensavo sarebbe meglio di chiamarlo? Cinema Do Cinema Do Don't Do Do Not Yes Do Do quindi Don't Do quindi Do invece sì A Val di Zoldo 8, 9, 10 gennaio